Martedì 17 ottobre al Caffè Teatro di Verghera di Samarate riproporrò lo spettacolo di teatro canzone Giorgio Ambrosoli scritto in collaborazione con Michela Marelli. Lo spettacolo viene proposto in concomitanza con il novantesimo anniversario della nascita dell'avvocato milanese. Alle 19 per la pericena e alle 20 e 30 per lo spettacolo. Interverrà alla serata anche la figlia Francesca Ambrosoli che presenta il suo libro Giorgio Ambrosoli orgoglio dolore memoria. Vi aspettiamo.